Che sarà con Achille e Lauro? Che bello iniziare la puntata così, Roberto. Sì, fantastico. Sì, Gab, è una sorpresona. È qui. Ehi, ho! Spoileri sempre? E vabbè, da tutta parte, qua davanti, come va? Dico che non c'è. È qua. Ciao, meraviglie. Ciao, meraviglie. Soprattutto ciao, benvenuto a Achille e Lauro. Grazie dell'invito, grazie. Grazie, un piacerone. Finalmente. Ho studiato tantissimo, forse troppo. No, no, mi sa che... Quindi la prima domanda te la fa lei. Ah, ok. Allora, Lauro, ben ritrovato, benvenuto. Siamo contentissimi. Ci hai stupito anche con questo tour, perché siamo ritornati a chitarra, voce, unplugged. Come per spiegarci al meglio come nascono le tue canzoni. Assolutamente così. Diciamo che il tour è un po' il concetto è anche quello, no? Riportare le persone, il pubblico e comunque anche noi stessi un po' come nascono i brani. Chitarra a voce, pianoforte voce. È sempre molto bello e molto intimo, perché poi alla fine una canzone è proprio condividere uno stato d'animo. Quindi in fondo è riportare tutto all'essenziale. Che sarà questa sera in quel di Firenze? Che cosa ci sarà in questo live? Beh, allora, per me, io che appunto vengo da un tour molto grande estivo, che sono abbastanza fissato con le grandi imprese, i grandi concerti, i grandi pensieri, tutto quanto, devo dire che invece la dimensione è un po' più intima e ristretta del teatro, proprio per una questione di dimensioni, no? Magari fai tre, quattro serate di seguito, però comunque alla fine la sera stessa si esaurisce con 2500-3000 persone. Però devo dire che si difende benissimo, anzi, il teatro veramente rende tutto prezioso. Cioè io, sai, avevo suonato solamente una volta il teatro con l'orchestra Magna Grecia, con 50 alimenti d'orchestra, era stato bellissimo. In quell'occasione avevamo fatto anche una bellissima operazione benefica, che eravamo riusciti a raccogliere quasi 100-120 mila dollari donati al San Donato, al reparto di cardiochirurgia infantile. Poi questo tour però mi ha permesso di conoscere bene e meglio il mondo teatrale, e devo dire che è incredibile, perché in effetti si sente la maestosità delle location, l'auditorium, l'Arcimboldi di Milano, per non parlare, vabbè, dei teatri storici. Ma io ti ho visto fare anche solo piano e voce, lì perché era saltato il microfono però, ho visto un video su YouTube ed è bello perché è l'imprevisto della diretta. Forse hai visto proprio il teatro antico di Tormina. Può essere. Sì, perché ogni tanto abbiamo un problema tecnico, ma io sono contentissimo quando abbiamo i problemi tecnici, perché io farei tutto il concerto improvvisando, perché chiaramente, sai, non essendo, non venendolo al cinema, quindi non essendo un attore, io vivo, cioè quello che mi piace fare, la mia passione è basata sulla spontaneità. Scrivere la canzone di Getto, scrivere, fermare, registrare la prima take di Getto, proprio senza pensare a niente. Di conseguenza, quando salta tutto, io sono super contento perché il concerto di solito è una replica, invece quando salta tutto ti puoi divertire, lo puoi scomporre. Beh, hai detto cinema, ci sono spesso delle citazioni cinematografiche, nei video, ma anche nelle canzoni, nei testi. Sempre, vabbè, il cinema... Tra l'altro ti ringrazio perché mi hai fatto scoprire un film bellissimo che è L'avventura di Michelangelo Antonioni che ho visto ieri sera. Mi è stupito, mi è stupito con questa. Del resto, nel libro tu scrivi, è la storia della mia vita quel film. È pazzesco, infatti, infatti, è pazzesco perché sei la prima persona, infatti, che mi fa questa... mi sottolina questa cosa. Evidentemente ti sei preparato, infatti vedo lì un sono io omelette. E mi hai fatto scoprire, anche perché è un progetto grafico bellissimo, oltre ai testi. Ci sono delle immagini stupende con questi street art, ma anche pittori come Alex Folla, che è il mio preferito, devo dire, tra tutti quelli... Ecco, ad esempio, c'è queste immagini, ce ne sono tante altre, lo dico per chi ci sta seguendo in televisione, naturalmente, non so se si vede bene, però dategli un'occhiata se vi capita. E devo dire, l'avevo preso il tuo libro in formato digitale. Poi, a me piace il profumo della carta, mi piace sfogliare, allora sono andato a prendere questo e ho scoperto un mondo, perché nel formato digitale, sì, ci sono queste immagini, ma non rendono come sulla carta. Sono d'accordo, gli artisti che mi hanno accompagnato nella descrizione visiva, nel racconto visivo del libro, sono veramente ragazzi in gamba, e non solo, sono anche artisti affermati. Devo dire, sono io omelette, è un libro, sai, anche quello fatto nella spontaneità, l'inizio, il primo libro scritto, devo dire che è stato, alla fine, una grande soddisfazione, è anche un grande successo. Un grande successo, senti, ma con tutti questi impegni, riesci comunque a scrivere nuovi lavori, avere nuove idee? Sì, non dormo. Infatti, stavo dicendo di notte, perché me lo dice, scrive fin da piccolo. Quanti caffè bevi se bevi caffè? Ma, il giusto, il giusto, però comunque ho diminuito drasticamente le ore di sonno, purtroppo. Ma da sempre, mi pare, perché leggevo che fin da quando eri bambino stai sveglio la notte a scrivere. Sì, sì, da sempre. Devo dire, la musica è una delle cose che poi nascono anche più in modo facile, veloce. Cioè, a volte le persone mi dicono, ma come fai a scrivere le canzoni? Quanto ci metti? In confronto a tutto il resto, a livello proprio di tempo occupato, ne occupa veramente poco rispetto a tutto il contorno. Cioè, costruire un successo, no? È una cosa. Scrivere la canzone è anche dieci minuti. E vabbè, ma lo dici tu perché sei Achille Lauro, hai capito? Perché hai talento. Ma guarda che secondo me è solamente, guarda, secondo me è solamente metterci, sì, perché poi se hai veramente qualcosa da dire, Perché dipende dal momento. Tante volte noi, quante volte noi siamo pieni di pensieri, quante cose pensiamo durante la giornata, basterebbe o segnarsele, oppure prendere il momento giusto che vuoi veramente comunicare qualcosa. E allora, continueremo la chiacchierata, il tempo di ascoltare di Achille Lauro, Bambam Twist. Bambam Twist, con Achille Lauro che è nostro ospite oggi pomeriggio. Siamo contentissimi davvero di averti qui. Io, io, grazie. E dicevamo prima con il video, con la citazione del balletto e di Tarantino. Ritornando un attimo al libro, perché l'ho letto veramente con compassione, sai che mi ha ricordato, è stato un po' come vedere Trainspotting per me. Grazie, grazie. Non lo so se, almeno la sensazione che ha dato a me, poi è chiaro che ogni lettore ci vive qualcosa di suo. Un grandissimo film Trainspotting, il primo chiaramente migliore del sequel. Non c'è da. No, devo dire, ti ringrazio. Comunque è stata una storia un po' complessa la mia. Diciamo, partita dalla periferia romana estrema, dove chiaramente c'è di tutto, ma non parlo solamente di difficoltà e disagio, anche tanto abbandono, cioè anche tanta gente sola. Poi è un po' stupendo, perché poi l'altro lato della medaglia, ne parlavo anche con, per esempio, Alessandro Michele, cioè Roma ha conservato, col fatto che è un po' decadente, questo senso di abbandono ha conservato, ed è molto lontana da quello che è il business della musica, no? Cioè le persone si sentono molto lontane da riuscire a fare qualcosa. Di conseguenza questo, incredibilmente, alimenta un sottobosco artistico per la quale nessuno pensa al faccio l'opera per uno scopo, ma faccio l'opera e la perfeziono fino a che diventa veramente un gioiello. Quindi, sai, è come uno scultore che continua a perfezionare, a perfezionare, perché non vede il mercato, quindi non si piega a logiche di mercato. Di conseguenza, sì, vabbè, io sono passato proprio da una storia abbastanza complessa, ho vissuto appunto in una comune di artistoidi, quindi un po' trinspotting, ma anche un po' in the world. Sì, è bella, factory, chiaro. Senti, volevo concentrarmi su questa bellissima tua avventura nelle scuole, dove hai trovato tantissimi ragazzi con talento, che hanno capito, grazie a te, a proprio l'incontro con te, che potevano continuare a, così, a migliorarlo, a renderlo la propria arte, a rendere un proprio percorso, e magari non avrebbero mai sperato prima del tuo incontro in questo. Beh, allora, io in qualche modo cerco sempre di rapportarmi prima di tutto con i ragazzi come fossi un loro amico, ok? Ed è questo importante, e soprattutto, la prima cosa che dico è la felicità, chiaramente non è la carriera, non è derivata da, da quello che, dal guadagno, quello che vedete sui social network, il successo effimero, è molte volte, come posso dire, a nebbia, quello che è, cioè, non è, non è corrispondente alla realtà, cioè le storie, i grandi imprenditori, i grandi artisti, si basano sul duro lavoro, sui sacrifici, sui fallimenti, sul essere testardo, e avere una volontà pazzesca, cioè nel momento in cui tu vuoi fare una cosa, sappi che c'è un grande percorso da fare, dall'altro lato, la cosa che dico spesso ai ragazzi, per non confonderli, anzi la prima cosa che dico è, chiaramente la felicità è soggettiva, cioè ognuno di noi può magari trovare la felicità, anche nella costruzione e relazione, facendo una famiglia, diventando, andando in un paesino di campagna, a fare la sua terra, cioè, e chiaramente, quindi questo è il primo messaggio, perché non vorrei poi che fosse forviante, rispetto magari ai ragazzi, che parli di carriera, secondo me è sbagliato. Adesso mi fai pensare a una cosa che ho sentito, che hai detto forse proprio ai ragazzi, se uno riesce a fare, poi correggimi se vado un po' a memoria, se uno riesce a fare una cosa, solo per la passione, e non perché lo pagano, ha fatto bingo. Certamente, beh, io lo credo fortemente, sono figlio di questo, anzi, io credo che il guadagno sia una conseguenza di una passione portata ai massimi livelli, cioè, quando, tornando alla scultura, al sottobosco artistico, quando la tua opera inizia ad essere, ad assomigliare, avvicinarsi al concetto, molto, molto pagamente, perché è qualcosa da perfezione, però di perfezione, viene affinata, quando tu sei veramente un professionista, poi, diventa una cosa di valore, cioè, oltretutto, io metto anche sul piatto questo, cioè, per me, se tu fai, anche la quantificazione di ore, fai 10.000, 20.000 ore, la stessa cosa, fatta perfetta, diventi un maestro, questo è un qualunque cosa, e anche un'automobile può essere un'opera d'arte, perché lo dico? Perché, ascoltiamo, Rolls Royce, lo può essere sicuramente, ed ecco a voi, signore e signori, avete appena sentito, 16 marzo, uno dei miei brani preferiti, Assunto, Assunto, noi rischiamo sempre il posto, te lo dico, quando ci sono gli ospiti così, Achille Lauro con noi oggi, voi me lo dite, io mi presento, quella che ne è venuto a fare un programma intero, poi aspettiamo a te, voi mi chiamate, sono abbastanza versatile, senti vogliamo parlare dei tuoi Sanremo, tu veramente hai destabilizzato di volta in volta, allora partiamo da Baglioni, che bello guarda, che questo mi piace questa questa presentazione, destabilizzare di volta in volta, perché il pubblico era abituato insomma ai grandi cantautori, e c'era anche un pubblico un po' più adulto, poi sei arrivato tu in questo festival di Baglioni, tutti sono rimasti piacevolmente sconvolti, e poi ti ha richiamato Amadeus, e lì non solo ti sei esibito in gara, ma poi anche con lui hai fatto dei veri e propri quadri musicali, beh allora la mia esperienza a Sanremese, devo dire che è stata grandiosa, e mi ha permesso veramente di arrivare a un pubblico incredibile, sono partito con Rolls Royce, che era un po', a me piace pensarlo un po', Sid Vicious che scende la scalinata, mentre canta My Way tutto stonato, quello per me era l'approccio Sanremese, che era un pezzo chiaramente super rock'n'roll, ma anche incredibilmente pop, alla fine Rolls Royce era un pezzo strarradiofonico, ma infatti si è visto, diciamo è diventato un bel tormentone, di conseguenza poi avendo appreso cosa fosse la macchina Sanremese, ho costruito un progetto personalmente, proprio diciamo cuscito, cuscito su quello che era tutto quel format, quindi ho scelto un brano che all'interno conservasse varie sfumature, ci regalasse varie sfumature, che era me ne frego, dalla parte più intima alla parte più up, e poi ho seguito la direzione creativa totale del progetto, cioè proprio scritto tutto il progetto, disegnato e poi condiviso con il team Gucci, con il mitico Alessandro Michele appunto, che ha impreziosito ancora di più e finalizzato tutto quanto questa operazione, che è diventata forse una delle operazioni marketing forse più influenti degli ultimi anni nella musica. E che soprattutto ha cambiato proprio l'idea di Sanremo, il pubblico di Sanremo e tutto quanto. Questo lo lascio dire agli altri. Dai, lo dico io per te, dai. Questo lo lascio dire agli altri, ma sono molto contento di sentirlo, perché comunque abbiamo fatto, abbiamo sicuramente come sempre nella mia carriera, ho cercato di approcciare a quello che era il tradizionale, proprio al contrario. Senti, posso chiederti una cazzata, perché mi è rimasta in mente da quando ho letto il libro, che quando andavi a scuola hai fatto così tante volte tu la firma di tua mamma, che l'unica volta che l'ha fatta lei, hanno chiamato a casa. È vero sta cosa? Vabbè, leggevo che un po' è romanzato. Era abbastanza turbolento. Ma hai scritto che è romanzato per tutela. Ah, ok, ho immaginato, ho immaginato. Ho detto adesso quando lo vedo gli altri devo chiedere questa cosa della firma sulle giustifiche. Beh, allora sei bravo a invitare le firme degli altri. Vabbè, ero un ragazzo turbolento. Ma certo, sì, sì, sì. Vabbè, poi si cambia nel tempo. Sì, ma soprattutto sai, io alla fine oggi mi rendo conto che la mia strada era questa. Cioè io comunque magari non frequentavo la scuola, magari oggi tornassi indietro avrei anche perso un po' più di tempo, investito un po' più il mio tempo. Però sai che già scrivevo tanto, cioè ero già indirizzato. Se penso a le ore che ho utilizzato, investito in quel momento della mia vita, penso che comunque siano servite tantissime da oggi. Cioè forse la spontaneità un po' come dicevamo che trovo nello scrivere viene anche dal tanto tempo che ho dedicato. Fossi andato a scuola tutto quel tempo magari avrei fatto altro ma non avrei fatto questo. Sta lì che è un'altra roba da chiederti su quegli anni quando avevi fatto 15 anni, ma dopo, dopo, dopo. Allora state con noi perché poi ci sarà uno speciale a breve, uno alla volta, dove appunto Achille Lauro sceglierà una canzone. L'hai citata, me ne frego, quindi l'ascoltiamo. Ma che bello ballare, cantare insieme ad Achille Lauro, qui nostro ospite, con me ne frego. Aspetta che prima devo fare la domanda che l'ho accennata, sennò resta lì in sospeso. Hai scritto, riferendoti al te stesso di quando eri ragazzino, avevo paura che se mi fossi incontrato per strada non mi sarei riconosciuto. A distanza di tempo, com'è andata oggi? Ti riconosci? Dovevo fare una domanda seria prima della fine, capisci? Beh, a distanza di tempo credo che comunque... Poi ad un certo punto si arriva un momento alla vita in cui ti rendi conto che tutto aveva veramente un senso, qualunque cosa. Quindi si uniscono tutti i puntini. Oggi devo dire che sono molto contento anche di tutto quello che è stato la mia vita, perché appunto alla fine trovi veramente una motivazione in tutto, anche nella sofferenza. e adesso l'uno alla volta, adesso sì che ci siamo. Adesso, visto che... Aspetta, aspetta che c'è la sigla, aspetta, aspetta Lauro. Trenta, che noi la balliamo sempre, tutti insieme, facciamo un po' i punti. Che bello, quest'uno alla volta con Achille Lauro, quindi insomma, Lauro, devi scegliere una canzone che per te rappresenta questo momento, magari appunto dello scorso Sanremo, che ti è piaciuta tanto. Dopo questo mega jingle, lo dici? Vabbè, io anche attaccandomi alla domanda che aveva fatto il dottore. Basta infermiere, grazie. Con rispetto ovviamente. Faccio un po' l'Amadeus e al numero uno troviamo Marco Mengoni con due vite. Grazie, Lauro. Grazie mille. È stato un piacere averti con noi. Grazie a voi, Grazie a voi, grazie a voi. Torna a trovarci. Grazie, veramente un piacerone. Grazie mille. Se vuoi fare per Amadeus devi dire sciuri, sciuri, sciuri. Grazie, ciao. Grazie a tutti.